ciao potete notare un cambiamento infatti ho accorciato di un bel po la barba sono andato a fare un colloquio ieri e ho pensato che era il caso di sistemarla un attimo comunque sono qui per dirvi due tre cose ossia adesso in questo momento sto andando a prendere il rovo per i miei fillium che adesso vi mostrerò comunque sono anche qui per invocare la pausa estiva adesso non riuscirò a fare video per un po se non dei video molto piccoli oppure quelli sulla mia avventura su pokemon y che sto tenendo aggiornata su telegram quindi andate a sul mio gruppo telegram che trovate sempre in descrizione se volete seguire questa avventura per chi non l'ha sentita non sa di cosa sto parlando è un'avventura che sto facendo appunto su pokemon y non usando solo una squadra di pokemon coleottero comunque eccomi qui qui c'è il rovo che adesso prenderò e qui mi è stato tagliato un po ce n'è ancora un po qui ecco è qui vedete qui c'è una piccola foresta comunque appunto adesso sarà un po fermo qui video comunque mi farò sentire su facebook telegram appunto instagram anche twitter ogni tanto dunque lui ci sentiremo ci vedremo col prossimo video penso verso settembre sperando di ricominciare due you know back pokemon perché sto aspettando la grafica che dovrebbe essere quasi pronta e dunque dovremo quasi esserci per per la nuova puntata non disperate quindi io vi auguro una una felice estate spero che abbiate finito la maturità esami vari e mi raccomando esplorate per bene la natura e fatemi sapere mandatemi foto quello che volete io sono sempre disponibile ciao ciao e mi raccomando siate sempre più verdi ciao